Penso che la vera cultura sia quella condivisa, non quella che resta patrimonio esclusivo di quattro specialisti. Dicesi maestro, diceva Don Lorenzo Milani, chi non ha nessun interesse culturale quando sta da solo. Quindi il vero maestro non è quello che sta da solo con i suoi interessi culturali, ma è quello, come dico io, che spezza il pane dell'istruzione. Quindi te ne do un pezzo a te, un pezzo a lui, questa è la scuola, questa è l'istruzione, dovrebbe essere questo. Allora noi adesso parliamo di città, parliamo di città conosciute, di città inventate, di città sognate e lo facciamo con Eraldo Affinati. Bene, grazie. Eraldo, grazie di essere qui al Warnex Fest. Allora tu hai scritto questo libro che è uscito il 7 maggio, giusto? Che si chiama Le città del mondo, edito da Feltrinelli. Vediamo qui la copertina, se la regia me la può mandare per favore. Lo vediamo qui. Vi ricordo che tra l'altro come tutti i libri che presentiamo al Warnex Fest si trova anche nel nostro bookshop. In questo libro tu racconti 300 città e queste 300 città sono riassunte in 1300 battute, giusto? Ogni città è 1300 battute. Allora noi quest'anno, come dire, capita fagiolo il libro perché quest'anno il tema del Warnex Fest è l'essenziale. Quindi tu sei riuscito a cogliere l'essenziale in 1300 battute. Ho provato, ho provato. Ci sei riuscito perché io il libro l'ho letto, quindi ci sei riuscito. Ti chiedo, è un processo, cioè quello della sintesi, è un processo creativo molto difficile, soprattutto quando si parla di qualcosa di complesso come una città. Quindi ti chiedo qual è stata la sfida maggiore nel riuscirci, nello scrivere questo libro? Diciamo che questo libro, appunto, intanto spiegiamo un attimo, sono 300 città divise in tre sezioni. Città conosciute, città sognate, città inventate. 100, 100, 100. Ognuno di queste città ha appunto 1300 battute, quindi molto breve. Diciamo che non è che io ho potuto descrivere le città, sarebbe stato impossibile. Però per ogni città ho cercato di individuare un'emozione, un'esperienza, un incontro umano, un dettaglio, diciamo. E in questo ho dovuto trovare l'essenziale. Nella scrittura, diciamo, la scrittura è legata alla scelta, alla scelta delle parole. Per cui ho cercato, a modo mio, di ricavare un testo a partire dalla mia esperienza. Io sono un insegnante scrittore. Ho sempre insegnato italiano e storia, prima negli istituti professionali della capitale di Roma, soprattutto a contatto con ragazzi difficili, con ragazzi che magari ti creano problemi, che ti rappresentano una sfida per te. E quindi, ormai da quasi 20 anni, invece insegno agli immigrati, ragazzi che vengono da ogni città del mondo. Quindi capite bene che per me raccogliere 300 città, in qualche modo mi sono molto ispirato ai miei studenti, alle mie studentesse. Quindi ognuna di queste persone incarna una città. Questa è la ragione per cui ho pensato di scrivere questi ritratti urbani. Inevitabilmente ho messo molto di me stesso, della mia esperienza di vita, della mia famiglia, dei miei viaggi, dei miei incontri. Quindi mi è piaciuto racchiudere in una scheggia proprio, ecco a proposito di essenziale, tutto. Faccio un esempio concreto. Milano, dice come l'hai raccontata Milano, no? Adesso mi viene in mente stando qui. Mi è venuto in mente, una volta che sono andato nel carcere Beccaria, di cui tanto si sta parlando anche in questi ultimi giorni, no? L'incontro con quei ragazzi che ho avuto lì al carcere Beccaria per me è rimasto fulgorante, diciamo. Quindi quando ho scritto il capitolo su Milano ho pensato a quell'incontro con questi ragazzi perduti, tra virgolette. Tu li vedevi in questi occhi smarriti, che però per me è stato veramente importante. In quel momento ho pensato, dico, qui Milano è il fossato dell'Europa. Ho pensato, infatti chiudo quel breve capitolo con questa immagine. Io sono un pedagogo, un educatore, quindi ecco, dicevo, la sensibilità come scatta quando devi trovare l'essenziale. Senti, tu hai scelto di aprire con il prologo a New York e chiudere con l'epidigo a Gerusalemme. Quindi ti chiedo perché la scelta di queste due città tra tutte quante? New York è la madre ideale di tutte le città moderne, anche sfregiata, anche un po' toccata, consunta, con una sua precoce decadenza. Tra l'altro New York, come tanti di noi, ci siamo stati in varie stagioni dell'esistenza. Quindi ho messo a paragone, io ci sono stato prima della caduta delle Twin Towers, ci sono tornato molto dopo. Quindi ricorderò sempre che all'inizio sentivo un odore acre successivo a Ground Zero, ultimamente quando ci sono stato ho sentito l'odore della marijuana che è stata legalizzata negli Stati Uniti e allora, in qualche modo, solo mettere insieme queste due sensazioni mi ha fatto scattare alcune riflessioni. Poi io chiudo a Gerusalemme perché Gerusalemme in fondo è la madre anche invece dei grovigli irrisolti. Ecco, noi lo vediamo tutti i giorni. Gerusalemme è la città che ha fatto piangere Gesù nei Vangeli, ma che continua a far piangere ancora tutti noi. Infatti il libro finisce lì a Gerusalemme con tre domande. Chi sono io? Chi sei tu? Come possiamo vivere insieme? Ecco, l'uomo con tutta la sua sapienza, con tutta la sua erudizione, con tutta la sua cultura ancora non riesce a rispondere a queste domande essenziali. E noi lo vediamo lì. E io racconto in quell'epilogo la storia di un'amicizia interrotta fra due famiglie. Una famiglia israeliana e una famiglia palestinese. Ci sono andato a Gerusalemme perché io sono stato il curatore di tutta l'opera di Mario Rigonisterne, questo grande scrittore, autore del Sergente nella neve, della storia di Teul. Il traduttore in Israele di Mario Rigonisterne mi ha invitato lì a Gerusalemme. Quindi io ho visto Gerusalemme anche dagli occhi di questo amico ebreo che mi portò in un villaggio palestinese però. Quindi io vedevo che lì c'era un'amicizia tra le due famiglie però poi questa amicizia avveniva in un terreno conteso, rivendicato sia dagli uni sia dagli altri. Quindi non ho chiuso in modo edificante come un santino ma ho chiuso con una domanda irrisolta. Ci sono le città sognate. Le città sognate sono molto particolari nel senso che sono città che in qualche modo tu hai conosciuto però le hai conosciute anche attraverso l'arte, la letteratura quindi è come se tu ci fossi stato in sogno ma anche leggendo le opere dei grandi. Ci sono alcune di queste città che non esistono più e ci sono alcune città invece che ci sono ancora quindi che tu un giorno potrai visitare. Secondo te come sarà poi effettivamente visitare queste città? C'è un po' di timore in te nel poi vederle veramente? O una città che ti spaventa magari in particolare? Pensi chissà come sarà? Diciamo che io quando vado nei luoghi diciamo non solo le città ma in qualsiasi luogo io vado cerco sempre di documentarmi. Uno dei miei libri più significativi si intitola Campo del sangue è un libro in cui racconto un viaggio che ho fatto da Venezia ad Auschwitz quindi in qualche modo io mi preparo a questi incontri però sono pronto anche a restare sorpreso, disorientato a cambiare rispetto all'immagine che io avevo di una città però è chiaro che nelle città dove tu non sei stato ti lasci guidare nel sogno dagli scrittori che hai letto quindi in base ai grandi scrittori tutti immagini una città come potrebbe essere l'Armenia di Pushkin, la Buenos Aires di Borges e quindi la parte sulle città sognate che esistono ma dove io non sono ancora mai stato è molto determinata dalle mie letture per me la letteratura è stata importante è stata formativa nella mia vita quindi inevitabilmente quando tu leggi uno scrittore spesso quando vai poi nei luoghi di cui lui parla sei condotto dal suo sguardo poi ci sono le città inventate e c'è anche Roma Roma è una città inventata che è capostipite delle città inventate perché Roma te la puoi inventare tutti i giorni esistono tante Rome a seconda di chi ci vive di come tu le guardi Roma è la mia città però poi è una città stratificata quindi mi è sembrato bello che potesse in qualche modo inaugurare la sezione dell'invenzione perché è una città che ti inventi sempre insomma te la rinnovi sempre ogni giorno inventare le città è una cosa che facciamo anche quando siamo bambini che giochiamo inventiamo le città quando lo facciamo proprio dall'inizio però poi naturalmente lo fanno nel processo creativo gli scrittori lo fanno i registi c'è secondo te uno schema non proprio uno schema nel secondo schema è una parola molto rigida però c'è una linea quando inventiamo una città e tu hai sperimentato inventando queste città nel bene e nel male cioè cosa cerchiamo quando inventiamo una città in cui c'è un'utopia e invece di cosa abbiamo paura quando inventiamo una città che fa paura? beh qua hai detto una parola significativa utopia cioè è l'utopia che ci guida nell'invenzione di una città perché tu in qualche modo chi legge queste 100 città inventate che io appunto mi sono ho cercato di rappresentare in qualche modo vede che c'è una città ideale che si ritorna in ognuna di queste città inventate spesso per esempio è una città piena di orti con un casolare con degli spazi diciamo anche un po' trasandati per esempio c'è una città che si chiama Autobox che da me è inventata è una città dove ci sono diciamo costruita soltanto su un parcheggio su parcheggi sotterranei che in effetti ha una sua suggestione nel momento in cui tu entri quando tutti andiamo nei centri commerciali e troviamo questi grandi spazi anonimi e qui mi sono inventato per dire quella città quindi è chiaro che nella sezione delle città inventate c'è un po' un'immagine interiore che è mia, personale, che ritorna quindi è questo che mi guida una suggestione lirica anche che in qualche modo presiede all'invenzione di questa città quindi nell'utopia questo nella paura c'è qualcosa? o nel negativo? ci sono anche nelle sezioni di città inventate delle città popolate da scorpioni per esempio quindi ci sono anche delle ossessioni dei timori c'è anche un pozzo scuro, nero c'è il male umano che chiaramente questo emerge inevitabilmente anche in questo però forse scrivendo esorcizzi queste paure perché nel momento in cui tu scrivi in qualche modo le oggettivi queste paure le metti fuori di te le porti fuori questo è un processo che io vedo è universale è presente in ogni uomo tu lo vedi anche negli immigrati a quale appunto io insegno nel momento in cui loro scrivono in qualche modo elaborano il trauma che hanno vissuto se non lo facessero le loro emozioni resterebbero mute, vuote, sorde nel momento in cui scrivono trovano un significato un senso un valore anche anche alle cose brutte che hanno vissuto ecco parlavi adesso dei migranti tu hai fondato la Penny Whirton che è questa scuola dove insegni gratuitamente dove si insegna gratuitamente la lingua italiana come se parlare, leggere, scrivere fossero pane, acqua e vino giusto? quindi l'essenziale tra l'altro tu hai anche raccontato in alcune interviste che spesso hai viaggiato con i tuoi studenti andando nei loro paesi di origine quindi mi piacerebbe sapere com'è stato vedere con i loro occhi ritornando alle città e magari se ci puoi raccontare un episodio che ti ha particolarmente colpito immagino che ce ne siano molti però se riesci a scegliere quando si comincia ad insegnare con passione con trasporto quando non ci si limita a spiegare a mettere il voto inevitabilmente si chiara un rapporto di amicizia con i ragazzi io ho insegnato tanto nella città dei ragazzi una comunità educativa posta alle porte di Roma basata sull'autogoverno i miei studenti erano tutti immigrati erano ragazzi che venivano da ogni parte del mondo te ne dico uno di viaggio che poi ritorna molto in questo libro c'era un ragazzo Calic, africano che in classe non stava bene piangeva usciva era molto teso lui pensava sempre alla madre la madre che aveva lasciato a Conacri in Guinea non si sapeva se fosse viva o morta perché lui era da bambino era scappato si era staccato dalla mamma avendo perso già tutti i genitori tutti gli altri diciamo parenti perché era originario della Sierra Leone e aveva attraversato l'Africa pensa insieme ad altri bambini come lui erano bande sostanzialmente era arrivato in Sicilia poi a Roma non sapeva né leggere né scrivere pensa questo ragazzo quando l'ho incontrato io era una sorta di invalido spirituale noi con i miei colleghi siamo riusciti ad insegnare la scrittura e nel momento in cui lui ha scritto mi ha fatto la domanda cruciale ma mia mamma professore ma è viva o morta io non lo so come faccio a vivere così allora ci siamo messi in moto abbiamo diciamo in qualche modo fatto delle ricerche con i consolati abbiamo ritrovato questa donna che era rifugiata in Gambia e lui è andato a conoscerla e finalmente l'ha ritrovata tu pensa un bambino di 4-5 anni che ritrova sua madre quando ne ha ormai 20 no? non si riconoscevano pensa non si riconoscevano e si sono in qualche modo ritrovati e tutto il villaggio ha partecipato a questo allora quando lui mi ha detto questa cosa a certo punto io ho detto ma ma tu ti è successo questa io vorrei vederla questa donna lui ha detto professore vieni da noi vieni a conoscere mia madre in Gambia pensa che viaggio che ho fatto cioè io sono andato lì ma non in modo turistico lui mi ha portato a Saregubu che è una di queste cento città conosciute che io descrivo e in qualche modo ho ritrovato questa donna insieme al figlio e io ho assistito a questo ricongiungimento no? lì per esempio il viaggio ha prodotto un cambiamento in me perché quando poi sono tornato a Roma insieme a mia moglie Anna Luce Lenzi con la quale hai fondato la PNV anche lei è professoressa come me anche lei un po' insoddisfatta della scuola che si limita a rilasciare i diplomi insomma a mettere i voti a selezionare a dire chi sono i meritevoli e chi invece non raggiungono chi non raggiunge diciamo il voto alla sufficienza abbiamo deciso insieme a lei di reagire diciamo dopo questo viaggio che avevo fatto in Africa abbiamo fondato questa scuola Penny Whirton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati uno a uno senza classi senza voti senza burocrazia senza soldi perché siamo senza finanziamenti non vogliamo partecipare a bandi e cosa è successo che nel tempo si sono estese queste scuole Penny Whirton in questo momento sono oltre 60 in tutta Italia sono tutte associazioni che fanno riferimento al nostro stile educativo si chiamano Penny Whirton diciamolo che non l'abbiamo non l'ho ancora detto diciamolo sì certo Penny Whirton perché è il Penny Whirton e sua madre è il titolo di un romanzo di Silvio Darzo questo grande scrittore italiano purtroppo conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori e io e Anna Luce ci siamo conosciuti proprio grazie a lui perché entrambi abbiamo fatto la tesi di laurea su Silvio Darzo e Penny Whirton nel personaggio romanzesco era un bambino abbandonato abbiamo deciso quindi di chiamare così la nostra scuola che si rivolge ai Penny Whirton di oggi questa è la ragione del nome e chiaramente queste scuole Penny Whirton ieri abbiamo fatto a Roma la diciamo la la riunione nazionale di tutte le scuole sono venute da ogni parte d'Italia anche qui a Milano c'è una scuola importante in via Pinturicchio e diciamo che tu capisci che questa per me è vita non è soltanto letteratura vita ecco si intrecciano e un libro come questo tiene conto diciamo di queste mie esperienze certo anche perché tu spesso hai detto questa cosa che la letteratura non si deve fermare negli studioli nelle studi ma deve essere ha un potere nei confronti della vita sì io penso come Don Milani su cui ho scritto due libri no penso che la vera cultura sia quella condivisa non quella che resta patrimonio esclusivo di quattro specialisti insomma no dice si maestro diceva Don Lorenzo Milani chi non ha nessun interesse culturale quando sta da solo quindi il vero maestro non è quello che sta da solo con i suoi interessi culturali ma è quello come dico io che spezza il pane dell'istruzione quindi te ne do un pezzo a te un pezzo a lui questa è la scuola questa è l'istruzione dovrebbe essere questo questa è la ragione per cui la scrittura ti porta fuori da te stesso e quindi è come se tu dovessi andare a questo appuntamento che tu stesso ti sei creato come se avessi lanciato un boomerang che poi ritorna indietro no e devi essere responsabile rispetto alla scrittura alle parole che esprimi questa è la cosa che unisce lo scrittore e l'insegnante la responsabilità della parola parola scritta e parola orale grazie bene allora io avrei voluto fare un gioco con te o di parole ma purtroppo non abbiamo abbastanza tempo però ti abbiamo abbastanza tempo ok allora io ti dico tre parole e tu mi dici che città ti vengono in mente facciamo così tre parole tre parole bene dai allora se io ti dico casa 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 mi viene in mente San Pietroburgo paradossalmente perché quel viaggio che io feci in Russia tanti anni fa oggi sarebbe impossibile pensarci quando io camminavo lì sulla sulla neva lì sul fiume sul fiume in qualche modo pensai dico mi piacque senti qualcosa di familiare non ti so dire perché ecco quindi questo se dico madre madre in fondo Venezia forse per le sue acque per questo elemento diciamo materno ecco sento che potrebbe essere una città legata alla madre e poi l'ultima una parola che piace molto al mondo di Wired è futuro se dico futuro è futuro sarò sarò banale però mi vengono alcune di queste che ho inventato Domix Domix è una mia città che io ho inventato protagonista anche di un mio libro di qualche anno fa dove mi sono inventato questa città del futuro dove c'è questo grande grattacielo dove ci sono tutti quelli che possono disporre di cose che quelli che sono al di fuori del grattacielo non hanno allora c'è questo c'è questo scarto che io sento molto anche nell'Italia di oggi nell'Europa di oggi nel mondo di oggi quindi però Domix c'è anche un immaginario fantascientifico in me Wired ci sta quindi per chiudere così ci sta tutto grazie mille Eraldo Affinati grazie grazie a voi grazie prego grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi